Buongiorno a tutte e a tutti. Rigasificatore. Continuo anche questo fine settimana l'aggiornamento sulla tematica del rigasificatore. Consiglio Comunale. Nella serata di martedì 3 ottobre 2023 il Consiglio Comunale ha approvato con voto unanime l'ordine del giorno di contrarietà al progetto per la ricollocazione nell'alto tireno della nave Golar Tundra e il nuovo collegamento alla rete nazionale di trasporto del gas naturale. Il suddetto ordine del giorno è stato redatto e condiviso dai gruppi consigliari il Progetto Comune Equiliano Domani. Durante la seduta sono state evidenziate le numerose criticità contenute nel progetto imposto ai territori, i significativi danni ambientali all'economia locale equilianese, con particolare riferimento alla previsione progettuale puntuale di creazione della stazione PDE. Forte è stata la posizione del capigruppo consigliare di maggioranza e opposizione che hanno evidenziato il fattore di inaccettabilità di questo procedimento amministrativo tuttora in corso, che rischia di distruggere l'economia locale e la vivibilità delle comunità equiliano. Al termine della seduta del Consiglio Comunale è stato aperto il dibattito rispondendo alle domande e alle richieste di chiarimenti e aggiornamenti formulate dai numerosi cittadini presenti che hanno partecipato alla riunione con grande senso civico e democratico. Tavolo comprensoriale. I comuni di Savona, Abissola Marina, Altare, Bergeggi, Carcare, No, Liquidiano, Spotorno, Veciportio, hanno formato il tavolo comprensoriale sul progetto di insediamento del rigasificatore, nella convinzione che il progetto dovrebbe essere esaminato e valutato nella sua interezza sia per la parte a mare sia per la parte a terra. Sulla base di tali premesse, i succitati comuni hanno espresso un documento comune dove in estrema sintesi evidenziano 1. Come il progetto presenti numerose importanti lacune relativa ad aspetti di impatto marino, ambientale, sanitario e sicurezza non approfonditi e non adeguatamente valutati e gravi criticità sia per la parte a mare sia per la parte a terra. 2. Si è accertato che non vi sono ragioni tecniche oltre che giustificano il trasferimento della Golan Tundra da Piombino, che quindi sono dettate da motivazioni di altro genere rispetto alle quali nessun comune del comprensorio è mai stato informato né tantomeno coinvolto. 3. Il progetto sia per la parte a terra che per la parte a mare è incompatibile col disegno di sviluppo economico ed ambientale che il territorio sta perseguendo. Infatti il comprensorio Savonese sta lavorando da anni ad un progetto di sviluppo economico al quale ciascun comune contribuisce con le proprie specificità che si basa sulla sinergia tra costa e introterra. Tale disegno, che emerge dalle azioni dettagliatamente assunte negli strumenti di pianificazione locali regionali, richiede un grande equilibrio nel calibrare i singoli progetti in modo che siano funzionali a questa crescita armonica di più vocazioni e non si porgano in antitesi con essa. Ebbene, il progetto della Golan Tundra confligge in modo insanabile con tale disegno. Incontro in provincia del 5 ottobre. Un'ampia folla che ha accompagnato dall'esterno il lungo incontro cominciato alle ore 15, tra la struttura commissariale compresi i referenti di Snamerina e i comuni coinvolti nel progetto di posizionamento della nave Golan Tundra al largo della costa di Vado Ligure e Savona, con relativo collegamento alla rete nazionale del gas naturale. Il confronto tra il commissario Totti, il sindaco e i consigli comunali è stato teso al limite dello scontro. Il sottoscritto nel suo intervento ha sottolineato problematiche istituzionali che si sono evidenziate sia sul piano del metodo che del contenuto del progetto. Polemicamente ho ringraziato lo Stato e la struttura commissariale e Snam per avermi lasciato solo ad informare i cittadini in merito di un progetto di interesse nazionale e di carattere esecutivo. Attuato con una procedura speciale e urgente, in conseguenza, viste le criticità emerse, ho chiesto di ritirare il progetto. Ho ringraziato anche di aver scelto in modo unilaterale di inserire nella parte a terra un progetto come questo, in un comune dove negli anni tuttora ha pagato molto in termini di asservimenti all'interesse pubblico nazionale, evidenziando che questa sensibilità di attenzione all'interesse nazionale non è mai mancata. Ho evidenziato l'importanza della compattezza e del rapporto di rete con i comuni del comprensorio. Pubblicazione Albo Pretorio. Si informa che è pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Quiliano il decreto di autorizzazione per accesso ai fondi. La Prefettura di Savona ha autorizzato la società Snam e Rete Gase S.P.A., incaricata per conto di Snam FSRU Italia S.R.L. a introdursi nei fondi privati riportati nelle planimetrie legate al decreto pro svolgimento delle operazioni peritali, finalizzata alla redazione del progetto di ricollocazione del nuovo gasdotto FSRU Alto Tireno e collegamento alla rete nazionale gasdotti che interesserà ai comuni di Vadoligure, Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte. L'autorizzazione è finalizzata all'effettuazione delle operazioni planimetriche, allo svolgimento di rilievi topografici e all'esecuzione di sondaggi archeologici, geologici e geoelettrici necessari alla redazione del progetto per la redazione del metanodotto e delle opere connesse. Ingombranti, Roviasca, Montagna e Molini, sabato 14-10-2023. Ricordo a tutti gli interessati che sabato prossimo 14 ottobre 2023 dalle ore 8 alle ore 12 verranno ritirati gli ingombranti nelle frazioni di Montagna e Roviasca presso il bivio Montagna e Roviasca da parte di Sat. È necessario portare con sé il documento di identità. Il servizio è riservato all'utenza domestica di Roviasca, Montagna e Molini. Per conferire occorre essere muniti in documenti d'entità. Per chi non disponesse di un mezzo per trasportare gli ingombranti, sono previsti i punti di raccolta in piazza via Rascamontagna e in via Cabassuti dopo l'incrocio con via Miele, con ritiro dalle ore 8 alle ore 11.30. Pedibus. Nella giornata di lunedì 9 ottobre verrà attivato il servizio Pedibus a Valleggia. Si ringrazia l'associazione Alpini Vado Ligoro e Quigliano per la disponibilità nella gestione del servizio. Borse di studio. È uscito il bando regionale per le borse di studio per il rimborso dei libri scolastici per gli alunni delle scuole statali e paritarie e secondarie di primo e secondo grado. Sul sito istituzionale del Comune si possono trovare tutte le informazioni e il modulo per la domanda. Harry Potter Book Day. Il 12 ottobre 2023 vedrà la prima edizione dell'Harry Potter Book Day celebrato in tutto il mondo e nella biblioteca di piazza Costituzione. Ci si sta preparando per dare vita a tre giornate indimenticabili e dedicate ai luoghi magici. giovedì 12 ottobre, venerdì 13 ottobre e sabato 14 ottobre. Per la prenotazione obbligatoria è contattare il personale della biblioteca 019 88 78 311 in collaborazione con la Casa di Fede. Amni l'8 ottobre 2023 è la 73 giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il sottoscritto parteciperà alla manifestazione promossa dall'Amni che avrà luogo a Savona domenica 8 ottobre. Per informazioni è possibile rivolgere la sede Amni di Savona a Via Godobono 6-2, telefono 019 82 97 82. Istat. L'Istat dal giorno 1 10 2023 al giorno 20 12 2023 svolgerà indagini bambini e ragazzi e comportamenti e atteggiamenti e progetti futuri. Per qualsiasi richiesta di chiarimento e informazione telefonare al numero verde gratuito 800 188 802, attivo da lunedì al sabato dalle 9 alle 23. Oppure visitare la pagina dedicata sul sito Istat dove è possibile consultare anche la lettera informativa firmata dal Presidente dell'Istat. Buon fine settimana a tutte e a tutti.